è una domanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore e la Madonna ha dato un bellissimo esempio, dice ma tutti voi da vostra casa avete una base di fiori che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocci acqua e dopo vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa e anche il stesso esempio è il nostro cuore ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore il nostro cuore crescere stesso come questo fiore e quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua vediamo come questo fiore sparisce come non esiste più quando siamo a mettere questa acqua di un po' di un po' di un po' di un po' di un pochisisi vediamo come si è ripetuto l'acqua e non è un po' di uno e la Madonna dice